Ultimi minuti nella meravigliosa Bologna, dove abbiamo sostato per due giorni per partecipare ieri 5 maggio al corso Power Gateway di Paolo Marciliano. Un'esperienza unica. Seguiamo Paolo da quasi un anno, dopo aver acquistato il suo videocorso, che ci ha subito convinte dell'efficacia del suo sistema per vendere case grazie ai video. Il corso di ieri è una conferma che la strada intrapresa con il suo videomarketing immobiliare sarà senz'altro un percorso vincente. Un corso pieno di nuove lezioni che Paolo, con la sua semplicità e simpatia, ha reso anche molto coinvolgente, divertente e interessante. Sì, torniamo a casa con nuove competenze e la sensazione di un arricchimento personale anche dal punto di vista umano. Oltre a Paolo, infatti, abbiamo conosciuto il suo splendido team e nuovi colleghi amici. Grazie e a presto. Ciao.